Allora, siamo con Safira Nikhil, il capitano della cantera adriatica. Oggi avete fatto una grande partita, avete rimontato, sei soddisfatta di come è andato? Sì, certo. È stata una buona partita? Sì. Cosa avete pensato quando stavate sotto? Ci credevate? Siete riusciti poi a riportarvi sopra? Nel finale avete addirittura rischiato di subire il gol, ma avete retto. Raccontaci un po' le tue emozioni. Beh, la mia emozione è stata che per un attimo speravo di vincere, però quando è stato quell'attimo del calcio d'angolo mi si è stoffata un attimo in cuore perché pensavo che era un attimo un gol. Hai avuto paura? Sì. Dicci un po', tu in che ruolo giochi? Io gioco in ruolo alla destra. E qual è il tuo giocatore preferito al quale ti ispiri? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Va bene, allora grazie. Buona Pasqua. Grazie anche a voi.